Sono stati sospesi dal servizio i 20 dipendenti del Comune di Foggia, 13 agli arresti domiciliari, 7 destinatari di misura interdittiva, raggiunti il 9 maggio scorso da misure cautelari della magistratura di Foggia nell'ambito di un'inchiesta anti assenteismo. La sospensione è stata disposta dal dirigente del servizio personale del Comune, Claudio Taggio. Uno degli indagati, il dirigente Antonio Scalchi, è stato sospeso anche dall'incarico dirigenziale con decreto firmato dal sindaco Franco Landella. Nel decreto il primo cittadino si riserva inoltre l'adozione di ulteriori provvedimenti in applicazione delle decisioni che saranno adottate dall'autorità giudiziaria nel proseguo del procedimento penale e dalle determinazioni assunte dalla Commissione disciplinare del Comune di Foggia. Le 20 sospensioni del servizio decorrono dal 9 maggio scorso e hanno innescato infatti l'apertura formale di altrettanti procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti coinvolti nell'inchiesta. Intanto sono iniziati gli interrogatori di garanzia dei presunti assenteisti e primi quattro dipendenti comparsi dinanzi al GIP del Tribunale di Foggia si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. I loro legali hanno avanzato richiesta di rimessione in libertà. I dipendenti arrestati in tutto 13 lavorano al Servizio Integrato Attività Economica, ESUMA e Protezione Civile del Comune in Viale Sant'Anfonso, Maria De Liguori. Secondo la tesi dell'accusa i 13 dipendenti arrestati più altri 7 sospesi dal servizio avrebbero messo in atto un meccanismo in grado di coprire assenze e ritardi sul lavoro. In pratica chi non era fisicamente a lavoro risultava presente lo stesso grazie a colleghi che timbravano il beige anche per conto degli assenti.